Vediamo un po' se il nome che il centrodestra ha condiviso, il Sampetta Casellati, sarà in qualche maniera anche gradito a parte del centrosinistra del Movimento 5 Stelle, vedremo. Senta ma di fronte a questa situazione di stallo i presidenti di regione che in più di un'occasione di fronte a pandemie, covid, emergenze, hanno saputo trovare condivisione e unità, non possono rappresentare un po' un modello per trovare un'intesa? Lei ha detto una cosa sacrosanta, però non deve dimenticare che in pandemia i presidenti di regione hanno dei poteri straordinari, poteri di ordinanza e quindi si rapportano davanti all'emergenza con tutti gli altri presidenti e si trova sempre una sintesi, questo è vero. Qui invece è l'esercizio di un potere politico e non si possono imporre decisioni, ma le decisioni vanno condivise. Imporre no, ma magari suggerire? Le abbiamo suggerite, noi i presidenti di centrodestra abbiamo suggerito alcune decisioni, una di queste è proprio quella di portare un numero di così elevato lignaggio come si soglieva.